Rossini in canto, un gioco di parole che accompagnerà il primo concerto delle settimane rossiniane 2023 in onore del non compleanno di Giochino Rossini. Primo appuntamento organizzato da Amat insieme al Circo Amici della Lirica e Rossini Opera Festival. Sarà il duo, composto dal mezzo soprano Chiara Alloi e dall'organista Mirko Ballico, a deliziare il pubblico domenica 19 febbraio sulle note del Cigno. È un concerto all'interno della manifestazione del non compleanno di Rossini e per noi è un'occasione importantissima come circolo partecipare a questo grande evento con tante iniziative all'interno, ci sono tantissimi concerti. Noi apriremo questa rassegna il 19 alle ore 21 nella chiesa Madonna delle Grazie e ci sarà l'organista Mirko Ballico che è un affermato organista il quale ha trascritto anche le overture di alcune opere di Rossini e poi accompagnerà anche una cantante Chiara Alloi, affermata giovane cantante, sia mezzo soprano e quindi nella tradizione del circolo che appunto offre canto lirico in questo modo abbiamo abbinato sia la manifestazione del non compleanno con la nostra tradizione del canto e fra l'altro l'organo che verrà suonato, un organo degli anni 60 che è molto eclettico, si presta benissimo a questo repertorio e sarà sicuramente una serata interessante dal punto di vista degli esecutori e anche del repertorio che svolgeranno.